Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con le breaking news. La cronaca si è scagliato contro la moglie sferrando alcuni colpi di coltello, fendenti che non l'avrebbero raggiunta in punti vitali. L'episodio è avvenuto ieri sera a Bibbiena, alle 20 i carabinieri sono intervenuti in soccorso alla donna. Lui è un 49enne italiano, lei ha 41 anni, lei è ricoverata a Careggi, lui è stato arrestato per tentato omicidio, trasportato presso il carcere di Arezzo, la procura ha aperto un fascicolo su questa storia. Dietro all'aggressione ci sarebbe anche l'ombra di dipendenze da alcol e droga. Il fatto, come detto, è accaduto a Bibbiena. Il punto adesso sulla situazione dei contagi. Il numero di nuovi casi positivi nella Asla Toscana Sud-Est è di 27, di cui 9 nella provincia di Arezzo. Le persone positive in carico sono 741, ci sono 43 guarigioni e nessun decesso, 30 le persone ricoverate in bolla Covid, 9 in terapia intensiva. Per le varianti, un solo caso su 14 nell'Aretino, si tratta della variante brasiliana. Torna ad Anghiari in presenza la mostra mercato dell'artigianato. L'appuntamento è in programma da domani fino al prossimo 6 giugno ed è un appuntamento questo ormai importante, storico non solo per Anghiari, ma anche direi per l'intero territorio della provincia di Arezzo, perché sono in mostra delle eccellenze che caratterizzano appunto l'arte manuale dei nostri artigiani. Queste erano le nostre breaking news. Grazie per la visione!